Arrivato perché voluto dal mister, è già pilastro del muro nerazzurro. Guglielmo Stendardo si può già considerare integrato nel nuovo ambiente, che l'ha accolto a braccia aperte nella sessione di mercato invernale. Da qui alla prossima settimana si prospettano per l'Atalanta sette giorni indecisivi, in vista della tanto agognata salvezza. Sicuramente sono sette giorni importanti per noi, perché affrontiamo sfide decisive in ambito salvezza. Però io, come ho già detto ieri, noi dobbiamo affrontare queste partite come se fossero 17 finali, con questo spirito, e sono sicuro che alla fine raggiungeremo il nostro obiettivo. Il difensore con il passato laziale ha avuto modo di indossare anche la casacca giallorossa, del Lecce ovviamente, e domenica sarà uno degli ex di turno. È stata un'esperienza che comunque mi ha insegnato qualcosa. Peccato perché poi quell'anno non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, però comunque conservo un buon ricordo. Le gambe del buon standardo stanno carburando, ma il minutaggio praticamente nullo ottenuto con la Lazio non gli ha permesso di arrivare a Bergamo con una condizione ottimale. Non avendo giocato è normale che io all'inizio avessi qualche timore, tra virgolette, però devo ringraziare i miei compagni di squadra che comunque mi hanno aiutato e mi hanno messo nelle migliori condizioni. Il dodicesimo uomo è pronto a spingere i propri beniamini, per l'ennesima volta, alla vittoria. Per Stendardo sarà la prima in casa e la voglia di mostrarsi al suo nuovo pubblico è a mille. Mi immagino uno stadio, come al solito, ricco di entusiasmo, ricco di passione che spingerà la propria squadra al raggiungimento della vittoria.